Buongiorno ragazzi, la volta scorsa ci eravamo lasciati parlando dell'atomo e delle molecole, però per arrivare alla struttura atomica odierna nel corso degli anni sono state formulate diverse teorie. Se guardate questa slide c'è una freccia del tempo e si può notare che la prima teoria atomica risale addirittura al 400 avanti Cristo. Ma perché l'uomo studia l'atomo, ha studiato l'atomo, ha formulato queste teorie? Perché da sempre si è posto delle domande sull'esistenza, sulla vita, sul mondo in cui vive. Quindi studiare l'atomo, capire il mondo in cui si vive. In effetti i primi che hanno studiato l'atomo, che hanno formulato delle teorie atomiche non sono stati gli scienziati ma sono stati i filosofi grechi. Nel 460 avanti Cristo Democrito insieme ad altri filosofi formulò quest'ipotesi. Tutto il mondo è costituito da piccoli corpuscoli indivisibili chiamati atomi. Atomi perché? Perché in greco atomo significa indivisibile. Bisogna aspettare il 1800 perché uno scienziato riprenda in mano il concetto di atomo. In effetti Dalton per giustificare le leggi della chimica, la legge della conservazione delle masse piuttosto che delle proporzioni definite e costanti, ipotizzò che tutta la materia fosse formata da particelle piccolissime, indivisibili e indistruttibili. Successivamente nel 1904 Thompson, dopo aver scoperto gli elettroni, ipotizzò un modello a panettone dell'atomo. Questo modello consisteva in una sfera di carica positiva in cui erano incastonati gli elettroni che lui aveva scoperto. Un po' come l'uvetta incastonata nella pasta del panettone. Però nel 1911 Rutherford, per dimostrare la vericità del modello atomico di Thompson e fece un esperimento. Lui lanciò delle particelle alfa contro una lamina d'oro. Cosa si aspettava? Siccome l'atomo di Thompson era un atomo pieno di carica positiva, lui si aspettava che la maggior parte di queste particelle tornassero indietro. Invece, con sua grande sorpresa, vide che la maggior parte delle particelle attraversavano la lamina. Solamente una piccola parte veniva deviata e una parte irrisoria rimbalzava tornando indietro. Quindi che cosa formulò? Formulò che ipotizzò che l'atomo non fosse pieno di una carica positiva, ma che la carica positiva si trovasse solo in una zona centrale che chiamò nucleo e che gli elettroni ruotassero intorno su delle ordine circolari intorno al nucleo. L'atomo di Rutherford durò pochi anni. Nel 1913 però Bohr pensava che gli elettroni ruotando intorno al nucleo su ordine circolari potessero perdere energia e quindi cadere sul nucleo. Quindi che cosa ipotizzò? Ipotizzò che esistessero dei livelli energetici crescenti a partire da quello più vicino al nucleo dove gli elettroni si trovavano e dove gli elettroni non perdevano energia e quindi potevano continuare a ruotare. Nel primo livello energetico possono essere al massimo due elettroni, nel secondo e nel terzo livello energetico possono essere al massimo otto elettroni. Nel 1925 Schrödinger però vide che la fisica classica che si adattava perfettamente ai corpi macroscopici, ai pianeti, al mondo in cui viviamo non andava bene per il mondo microscopico, quindi non andava bene per gli elettroni e quindi lui ipotizzò che gli elettroni si comportassero come un'onda, che non si trovassero più in delle orbite ma in delle zone particolari chiamate orbitali. In realtà l'orbitale è la probabilità di trovare l'elettrone in quella zona. Nel 1932 Cadwick scoprì i neutroni, quindi noi adesso sappiamo che l'atomo è formato da un nucleo che contiene protoni e neutroni e che gli elettroni si trovano intorno al nucleo. Dal 1950 l'uomo si è sempre addentrato di più all'interno della struttura atomica utilizzando anche gli acceleratori di particelle fino a scoprire nuove particelle, i quarchi, i leptoni e nel 2012 il bosone di Ig. Grazie. Grazie.